Ciao a tutti amici e amiche del giorno atipico, spero stiate tutti bene nonostante la sconfitta di ieri, vado a spiegare il titolo ovviamente un po' ironico del post partita di oggi, si riferisce più che altro al post 2 a 1 quindi prima di arrivarci andiamo a analizzare il tutto, quello che è successo anche prima, primo tempo 1 a 0 per l'Atalanta la chiusura ma come è arrivato questo 1 a 0? È arrivato con qualche paura di troppo che ci ha fatto prendere Martinez? Sicuramente è arrivato con una squadra che comunque non avendo tanti esterni a sinistra, anzi non avendone, hai dovuto schierare forse con la base più solida che hai? Anche questo è da dire, ma è arrivato anche con troppi passaggetti secondo me sterili, inutili, che hanno solo aiutato qualche azione di più troppo di controfiede da parte dell'Atalanta gli ha dato forse più mentalità anche per quello che sono arrivati al gol secondo me e molti di quei passaggetti e di quegli errori sono passati dai piedi di Ruslan Magnoski infatti io speravo di non vederlo alla fine del primo tempo in campo invece Girardino ha deciso diversamente togliendo addirittura Badr e Strootman ma ci arriviamo ora quando parlo del secondo tempo secondo tempo nel quale Ruslan ha cercato di fare qualcosa in più ma dopo il gol non è che l'abbia visto così tanto in più in partita appunto Girardino leva i due che ho sopra citato per mettere una squadra molto più offensiva a dimostrazione a mio avviso del fatto che al di là che io avrei tolto forse Ruslan e non Strootman però ha dimostrazione del fatto che lui non voleva arrendersi sapeva delle difficoltà che probabilmente avrebbe creato perché non credo che uno lo sapesse però non voleva arrendersi e questo si è visto anche nel fatto che prima del 2-1 la squadra è andata ancora in avanti è andata a cercare il gol almeno in un paio d'occasioni anche con ci aveva provato con Riteghi, ci ha provato con Ekuban e anche in altre occasioni non c'è riuscita, nel contrapiede ecco che arriva il 3-1 sia quello annullato prima dell'azione a cui ho fatto riferimento sia quello poi vero e proprio dopo a quel punto ecco che la squadra è andata in palla ecco da dove deriva il titolo cioè loro non in palla, loro palla in rete nel senso che loro hanno sfruttato tutte le nostre deblacchi mentali da quel momento in poi io non faccio una colpa a Giliardino per aver scelto una reazione così tanto offensiva e non gliene faccio una colpa per un semplice motivo perché credo che abbia voluto dimostrarci e dimostrare anche forse al suo maestro Gasperini che lui non era uno che aveva timori reverenziali, ci voleva provare le statistiche lo dimostrano non so se avete visto le statistiche lì di Dazon ma lo dimostrano pienamente e quindi io apprezzo come ha fatto la gradinata tra l'altro come ha fatto la gradinata l'impegno messo dai ragazzi io ho visto ragazzi che comunque non ci sono riusciti a vincere non sono riusciti neanche a pareggiarla però ci hanno messo il cuore possono aver sbagliato, aver sbagliato mentalità o partita alcuni di loro ci sta abbiamo avuto, è vero, un Goodman sono ancora in calo sono d'accordo, sono d'accordissimo però ripeto, anche lui non è una macchina quindi non ci si può aspettare che faccia tutte le partite perfette ha fatto un giro nell'andata quasi fenomenale rispetto a quella che è la qualità anche della Rosa in quel momento perché avevamo una Rosa tra infortuni e altri problemi che doveva praticamente portare la croce quasi da solo visto anche l'assenza lunga di Matteo Ritegli, altro giocatore che si sta riprendendo ma che ancora secondo me non è al 100% quindi si può anche criticare il cambio che hai tolto Bradley Strootman come mi è stato detto invece che tenerlo in campo visto che sono una solidità del centrocampo ma bisogna anche capire il perché l'hai fatto cioè quei due ti avrebbero forse fatto fare una gara un po' più difensiva lui invece probabilmente ha voluto dimostrare che ha provato a vincerla ho provato a pareggiarlo, a reagire quantomeno schierando finalmente una squadra più offensiva che tra l'altro con l'entrata di Messias e di Ekuban soprattutto Levo Vitigna che ha giocato gli ultimi dieci minuti ma non ha che abbia fatto chissà cosa in questo caso però aveva già cambiato modo di impostare in attacco tant'è vero che siamo andati vicino al 2-2 senza poi riuscirci, peccato però è stata una partita secondo me che ci ha dimostrato tanto ma veramente tanto proprio sulla base di questa considerazione sulla maggiore offensività e maggiore pericolo offensivo che poi ha fatto da contraltare a una maggiore leggerezza difensiva sicuramente in cui appunto la squadra è andata in palla voglio fare due domande a voi e se volete rispondetemi nei commenti tranquillamente la prima è riferita a una frase che ho sentito dire appena stavo uscendo dal mio settore dello stadio ovvero cavolo ci sta nulla per la differenza reti ragazzi ma siamo davvero così preoccupati di doverci giocare una salvezza per la differenza reti quest'anno? questa ovviamente lo dico col sorriso perché mi sembra veramente rispetto ad altri anni una cosa di cui non preoccuparci per niente ma proprio per niente perché abbiamo già visto il genere di cosa è capace con le squadre con cui puoi veramente fare punti quindi non credo che sia questo un problema e la seconda domanda che vi faccio è che faccio soprattutto a quelli che oggi potrebbero criticare il fatto di essere andati troppo in avanti è cosa avreste detto se Girardino sul 2 a 1 avesse messo una squadra uguale, identica a livello mentale o addirittura più difensiva e non la vuole vincere e non vuole neanche provarci quindi probabilmente questa sarebbe stata la reazione me ne immagino poi se non sarebbe stata questa scrivetemelo ovviamente nei commenti ma quindi la domanda che vi faccio è voi state con me e con la gradinata a incitare i ragazzi ancora oggi e ancora adesso e a credere che a Napoli si possa anche pareggiare, perdere, vincere qualunque risultato ma con la stessa mentalità che ci può portare a una salvezza tranquilla con squadre magari più abbordabili o siete già diventati o passati dalla parte del pessimismo per una sconfitta sicuramente pesante e secondo me nella larghezza del risultato immeritata e quindi pensate già che possa essere un debacle che ha dimostrato che Girardino non sa leggere una gara o ha dimostrato che noi non siamo una squadra così tanto tranquilla è una domanda che vi voglio fare perché a quel punto riusciamo anche a conoscerci di più e capire anche un po' come come potremmo analizzare insieme il proseguo di questo campionato perché ve lo dico la prossima è Napoli tra due c'è l'Inter non aspettatevi di vincerle 5-0 magari vinciamo anche col Napoli o la pareggiamo però non diamo tutto per scontato solo perché solo perché siamo in una situazione migliore di quella degli altri anni guardiamo l'impegno che ci mettiamo anche nelle sconfitte questo è il mio appello però fatemi sapere voi nei commenti detto questo un grosso saluto dal vostro giornalatipico ci troviamo probabilmente giovedì su TikTok con il prepartita di Napoli-Genoa altrimenti YouTube e Twitch per la live reaction di Napoli-Genoa come al solito da un quarto d'ora prima dell'inizio della gara un saluto a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti